Nella tardestate del 480 a.C., Cartagine, approfittando che la Grecia stava subendo l'attacco dei persiani di Serse, dopo aver accolto la richiesta di aiuto di Terillo, re di Mera scacciato dalla città dal tiranno Terone da Grigento, inviò un enorme esercito al comando del generale Amilcare, con una flotta di 2000 navi da guerra ed un numero quasi doppio di navi da trasporto. Molte di quelle imbarcazioni naufragarono durante il viaggio a causa di una tempesta, ma nel complesso Amilcare sbarcò un grande esercito nel porto cartaginese di Palermo, con cui avanzò lungo la costa settentrionale dell'isola mentre veniva scortato via mare dalla flotta con i rifornimenti. Raggiunto il litorale antistante la città di Mera, fece tirare in secco le navi danneggiate dalla tempesta ed ordinò di costruire intorno ad esse un campo fortificato. Nel frattempo portò l'esercito su un colle posto di fronte della città e dopo averlo fatto cingere con una robusta palizzata si accampò per far riposare i soldati. Tre giorni dopo, uscito dall'accampamento con tutto l'esercito, ingaggiò un primo scontro sotto le mura di Mera con gli agrigentini di Terone, che nonostante si batterono con valore, furono ben presto sopraffatti dal numero delle forze nemiche e costrette a ritirarsi all'interno delle robusta mura civiche. L'esercito cartaginese allora si ritirò nell'accampamento sul colle ed a Milcare si trasferì nel campo sul mare dove sacrificò molti animali in onore degli dèi. Dalla città di Mera, Terone, capita l'impossibilità di opporsi da solo all'armata cartaginese, inviò a Siracusa una richiesta di aiuti a cui Gelone rispose partendo subito per Mera con 50.000 afanti e 5.000 cavalieri, che non appena arrivati si accamparono nei pressi della città al di là del fiume Mera. Nel frattempo alcuni siracusani mandati in avascoperta da Gelone catturarono un messaggero che cercava di raggiungere il campo cartaginese allestito sulla spiaggia, il quale aveva con sé una lettera dove era specificato il giorno in cui il comandante a Milcare aspettava un contingente di cavalieri promesso da Selinunte. Gelone sfruttò l'inaspettata occasione, fece travestire i suoi più valorosi cavalieri da Selinuntini e nel giorno in cui gli aiuti erano attesi li inviò al campo cartaginese sulla spiaggia. Utilizzando il dialetto dorico che era in uso sia a Siracusa che a Selinunte, essi ingannarono i cartaginesi posti di guardia al campo, i quali li accolsero come fossero i cavalieri richiesti da Milcare. Una volta all'interno del campo nemico, i siracusani fecero in breve tempo strage di uomini e riuscirono anche ad uccidere i generali a Milcare mentre era ancora intento a sacrificare. Poi incendiarono un gran numero di navi mentre alcune vedette davano il segnale agli eserciti greci di attaccare con tutte le forze disponibili. Gelone allora avanzò con i suoi fanti disposti in falangi e si scontrò contro l'esercito nemico che si era rapidamente schierato fuori dal campo. Allo stesso tempo Terone, uscito in gran fretta con il suo esercito dalla città, risalì il colle ed attaccò il nemico sul fianco. La battaglia fu cruenta ed infuriò per ore senza che nessuno riuscisse a prevalere sull'altro, finché, fra i soldati, si sparse la voce della morte del comandante a Milcare che gettò nella disperazione i cartaginesi. Approfittando di quell'incertezza, i greci, rinvigoriti dalla notizia, ruppero lo schieramento nemico e misero in fugli i cartaginesi. Alcuni di essi scapparono verso la spiaggia per imbarcarsi sulle navi all'ancora con cui salparono per l'Africa. Altri si dispersero nelle campagne dove furono ben presto catturati e resi schiavi dagli agrigentini. Altri ancora, infine, che avevano tentato un'estrema resistenza arroccandosi sulla cima di un monte vicino, furono circondati e costretti ad arrendersi per mancanza di cibo ed acqua. Gelone, pur disponendo di un esercito molto meno numeroso di quello cartaginese, aveva vinto una memorabile battaglia che, secondo Erodoto, si svolse proprio nella stessa giornata in cui le navi greche, comandate dall'Atenese Temistocle, vincevano la poderosa flotta persiana Salamine. Cartagine, che laborosamente sconfitta, resa ormai priva dell'esercito e della sua flotta ed inoltre umiliata per l'uccisione del suo migliore condottiero, per scongiurare uno sbarco greco in Africa che avrebbe potuto minacciarla direttamente, si affrettò a mandare ambasciatori in Sicilia con la richiesta di pace. Gelone le ricevette ed impose loro grandi quantità di denaro come risarcimento per le spese di guerra, ed inoltre trattenne nell'isola le decine di migliaia di prigionieri cartaginesi per distribuirle alle città di Sicilia, affinché lavorassero come schiavi nella realizzazione di opere pubbliche. Grazie alle immense ricchezze disponibili e al lavoro forzato di migliaia di prigionieri, furono costruiti, a di mera, il grandioso Tempio della Vittoria, nella Valle dei Templi di Agrigento, il maestoso Tempio di Zeus, famoso per i suoi colossali telamoni, e da Siracusa il Tempio di Atena, che trasformato nei secoli è oggi il Duomo di Siracusa. Ma nessuno dei due tiranni riuscì a godere a lungo della grande fama raggiunta in tutto il mondo antico, perché solo due anni dopo la battaglia di Mera, Gelone, straziato da una malattia, dopo sette anni di regno, morì lasciando Siracusa e il suo regno a suo fratello Ierone. Pochi anni dopo, morì anche l'altro protagonista della battaglia di Mera, Terone di Agrigento, a cui successe il figlio Trasideo. Si era così concluso un'epoca gloriosa nella storia antica di Sicilia. Gli eroi della battaglia di Mera erano tutti morti, ma il ricordo di coloro i quali avevano salvato la grecità nell'isola dai barbari cartaginesi restò vivo per sempre nell'immaginario comune dei greci antichi e specialmente in quelli di Sicilia. Grazie a tutti.